E' andata in archivio con successo la stagione sportiva che ha visto protagoniste le squadre rappresentative degli ordini dei commercialisti ed esperti contabili provenienti da tutta Italia. La BAT, teatro delle fasi finali Scudetto e Coppa Italia dal 6 all'8 giugno. Allo stadio degli Olivi di Andria, campo dove si sono giocate le due finali, è stato il Bergamo a laurearsi campione d'Italia battendo ai calci di rigore la rappresentativa dell'ordine dei commercialisti di Trani. Mentre la Coppa Italia se l'è giudicata a Bari dopo aver battuto il Catania ai tempi supplementari. Al di là dei risultati sportivi, la fase finale del campionato nazionale dei commercialisti tenuto nella BAT è stata l'occasione per vivere una grande festa, confrontarsi coi colleghi di altri ordini e allacciare nuovi rapporti. Lo sport come veicolo di socialità e come motivo per fare festa, vivendo alcune ore di spensieratezza, lontano dagli studi e dal lavoro. Oltre agli ordini dei commercialisti di Bergamo, Trani, Bari e Catania erano presenti anche quelli di Salerno e Napoli, rispettivamente classificati terzo e quarto nella Corsa Scudetto, Foggia e Palermo, terzo e quarto in Coppa. Il 7 giugno, invece, sono state coinvolte alcune realtà sociali, come la Fondazione Pugliese per le Neurodiversità e la Comunità Oasi 2 San Francesco di Trani, quest'ultima protagonista di una partita della solidarietà, giocata al Degli Ulivi contro una rappresentativa dei commercialisti. All'ordine di Trani, società ospitante e organizzatrice dell'intera manifestazione, il plauso da parte di tutti i partecipanti e, infine, la rivederci alla prossima stagione sportiva, sempre nel segno della festa, della socialità e della sana competizione.